Ciao. Sono passati esattamente 19 anni da quella mattina luminosa in cui ci siamo salutati con un sorriso. Il fatto di rivedersi non era certo in dubbio, no? La domanda era quando, non se. In effetti non era neppure una domanda. Il futuro poteva apparire incerto come il bordo frastagliato di un sogno, ma di sicuro ci conteneva tutti e due, insieme. Eppure non è andata così. Anche dopo tanti anni questo fatto mi sbalordisce. 19 anni da quel giorno, 19 anni interi. E ti sto ancora cercando. Non smetterò mai di cercarti. Spesso appari quando meno me lo aspetto. Proprio oggi mi ha imprigionato qualche inutile pensiero cupo. Avevo il corpo chiuso e rigido come un pugno di metallo. Poi, all'improvviso, eccoti. Una colorata foglia autunnale che fa capriole su un prato opaco color ardesia. Svanita la tensione, ho percepito l'odore della vita. Ho sentito la rugiada sui piedi. Ho visto tante sfumature di verde. Ho cercato di afferrare te, quella foglia vivace che ruzzolava, si dimenava e ridacchiava. Ho cercato di prenderti per mano, di guardarti bene. Ma scivolavi da parte in silenzio. Come in un punto cieco, irraggiungibile per poco. Non smetterò mai di cercarti. Da Sette giorni perfetti di Rosie Walsh, voce narrante Fabio Lombardi.